Noi chiediamo che il Presidente Fico venga in aula e ci dia risposta rispetto ad una lettera doppia che lui ha inviato al Governo per garantire la presenza del Ministro Salvini in aula come informativa all'indomani dello scoppio della nota vicenda che i giornali hanno ribattezzato Moscopoli. Crediamo che sia molto grave il fatto che dopo reiterati interventi il Presidente della Camera il Ministro dell'Interno non abbia risposto e non abbia fornito nessuna indicazione in questo senso. Stiamo creando un pericoloso precedente perché in assenza di regolamento e la prassi a determinare come si regolamenta questo tipo di situazioni riteniamo grave che un membro del Governo non si senta in dovere di dare risposte al Presidente della Camera e di venire in aula a rispondere ad una informativa richiesta dalle minoranze. Ancora più grave se, come leggiamo dai giornali, questo è un elemento di regolamento di conti all'interno del Governo come i giornali annunciano e che è un ulteriore elemento che ci dimostra come questa maggioranza sia in profonda crisi. Noi chiediamo che sia il Presidente della Camera a darci una risposta. Non è accettabile che a fronte di reiterate richieste dal Presidente della Camera non ci siano risposte. Se non ci sono risposte però noi cambieremo il nostro atteggiamento perché ci sarà una risposta proporzionale alla gravità del fatto nell'ambito della discussione in atto sul decreto sicurezza. Non possiamo immaginare che tutto prosegua come se nulla fosse. La conversione di questo decreto è una conversione complessa e noi metteremo in campo una serie di misure proporzionate allo sfregio che il Ministro dell'Interno ha fatto.